Benvenuto Goodlier, benvenuta! Ora una nuova evoluzione, parleremo di formattazione e partizionamento. Perché? Hai straordinariamente personalizzato il tuo BIOS ormai, e quindi è il momento di andare avanti. Prima però voglio fissare bene un piccolo comportamento che dovrai eseguire nel momento in cui si verificherà una situazione che, presto o tardi, dovrai affrontare. È un piccolo problema per un dominatore o una dominatrice del computer, ma verosimilmente un grande, insormontabile problema per un utente medio. Ma tu, mio caro o mia cara Goodlier, ti stai trasformando da bruco a farfalla, da utente medio a dominatore del computer. Forse non ti senti così, ma devi comunque immedesimarti, soprattutto se hai seguito il percorso fino a questo punto, e quindi hai comunque l'obbligo di farti complimenti per i risultati ottenuti fin qui. Perché non è da tutti. Non è presunzione, non deve essere presunzione la tua, ma la reale situazione delle tue conoscenze ad oggi. Sei consapevole? Forse no, ma è straordinariamente vero quello che hai letto. Pensaci. Dopo questa presa di posizione, però, torna ad essere uno sperimentatore. Leggi quanto devo esporti. Prima di srotolare, però, nuove informazioni, torniamo al piccolo problema, che hai già rilevato in precedenza, ma che ora ti definisco dettagliatamente. Premesso che in questo momento specifico non potrai realizzare eventualmente questo problema, in quanto il PC è nuovo di zecca e quindi anche oltretutto sprovvisto di sistema operativo. Ma, dato che hai appena terminato l'assemblaggio e le impostazioni del BIOS, credo che sia il momento opportuno per individuare correttamente le operazioni da eseguire. Di norma, prima che si manifesti in maniera eclatante questo problema, quando il sistema operativo sarà avviato, all'inizio comincerai a notare, nell'orologio ubicato nella Sistray, quindi in basso a destra, un valore improprio di ora o data. Il parametro è semplice da correggere. Dovrai cliccare con il tasto destro sullo stesso orologio e modificare la data e l'ora. Se però tale problema si ripresenta frequentemente, dovrai intervenire. Cosa potrà accadere nel caso in cui tu non intervenga? Beh, avrai un costante fastidio che, se vorrai, ti costringerà quotidianamente ad aggiornare la data e l'ora. Ma, dopo un po', accadrà che, se non risolvi, il tuo PC all'avvio si bloccherà, in quanto il BIOS ti allerterà che mancheranno i parametri di base per il suo lavoro. Quindi, o dovrai premere un tasto funzione per caricare i parametri di base, oppure entrare nel setup che ormai conosci alla perfezione. E questo dovrai ripeterlo ogni qualvolta se accende un computer. Dopo un po', ti darà talmente fastidio che non potrai più farne a meno. Quindi dovrai risolvere. Un utente medio che sa delle tue conoscenze, allora ti chiamerà, risolvergli il problema. A quel punto potrai decidere se lucrare sulla tua cultura o elargire gratuitamente le tue informazioni. Sinteticamente dovrai andare a sostituire questa batteria, la batteria tampone, che, di norma per una scheda madre, è indicata con la sigla CR2032, una batteria da 3V, finché non decideranno ovviamente di cambiare uno standard. Ma comunque questa indicazione non è propriamente valida per i dispositivi portatili, in quanto normalmente utilizzano altri tipi di batterie. Come dovrai fare? Beh, penso già l'hai visto e l'abbiamo ripetuto in qualche lezione fa, ma la ripetizione giova. Quindi dovrai innanzitutto spegnere il computer, scollegare ogni forte di alimentazione, aprire il cabinet, individuare sulla scheda madre la batteria e muovere tramite un piccolo cacciavita d'intaglio l'aletta di blocco. La batteria schizzerà via, dovrai semplicemente inserire nella sede la nuova batteria e premere leggermente con un dito fino allo scatto. Al termine, ricchiude il case e è tutto terminato. Ora, ricollega i cavi ed accendi il tuo PC. Alla notifica di mancanza dei parametri base del BIOS, ormai sai già come agire. Ora però, formattiamo. Cosa significa formattare? Ogni memoria di massa che hai conosciuto fino adesso, quindi dischi rigidi, pendrive, flash memory e così via, per essere utilizzati, almeno la prima volta, deve essere formattata. Riprendiamo una definizione di Wikipedia o italianizzata Wikipedia. Leggiamo cosa ci dice. L'operazione, quindi di formattazione, consiste nel dividere la capacità del disco in una serie di blocchi di uguale dimensioni e, contestualmente, fornire una struttura in cui verranno scritte le informazioni che permetteranno l'accesso ai tuoi dati. La prima cosa che vorrei chiarirti è che spesso si confonde il termine formattazione con cancellazione. Niente di più errato, o meglio, comunque, andiamoci cauti. Sentirai, infatti, dire che la formattazione di un dispositivo di memoria determina la perdita dei dati contenuti in esso, ossia non sarai più in grado di leggerti. Alto là. Ciò è improprio, se però generalizzato. Perché? Non è propriamente vero, anche se, naturalmente, un utente medio all'atto dell'esplorazione del dispositivo dopo la formattazione, non vede alcun dato. Per completezza, diciamo che la cancellazione sicura, e qui già la parola sicura è tutta da dimostrare, comunque, per cancellare in maniera sicura, certo, dei dati all'interno di un dispositivo, l'unica soluzione verosimilmente prevede la distruzione fisica e completa del dispositivo oppure dei dati presenti all'interno della memoria tramite un processo specifico. La formattazione compie una predisposizione della superficie del disco creando dei pacchetti che avranno una dimensione ben definita. All'interno di questi pacchetti successivamente andranno a memorizzarsi dei dati digitali. Come precisato prima, quindi dopo una formattazione, il risultato che nota un utente di PC non ancora in possesso di determinate conoscenze è l'assenza dei dati, quindi dei file, all'interno della memoria. Un fruitore invece che sa, che conosce, che smanetta, che domina la macchina potrebbe riuscire a recuperare parte dei dati o, nella migliore delle ipotesi, recuperarli completamente mostrandoli all'atto della sua esplorazione. Ti siamo chiesto come alcuni organi investigativi siano in grado di incastrare un utente ignaro in materia, appunto, che compia atti legali tramite un PC e possieda all'interno dello stesso dei dati, dei documenti, foto, video, comprometenti ed abbia tentato di cancellarli in vario modo. Perché esistono dei programmi e anche attrezzature specifiche dedicate al caso che ti permetteranno che permetteranno alla struttura all'ente di recuperare totalmente anche i dati parzialmente distrutti. Continua il percorso ed un giorno anche tu sarai in grado di realizzare ciò almeno in parte in quanto in alcuni casi servono delle attrezzature speciali. Ma ora veniamo alla formattazione che può avvenire in due modi o reinizializzando il supporto a volte anche definita come formattazione a basso livello o formattazione ad alto livello. Nel primo caso quindi una reinizializzazione tramite dei programmi particolari è possibile effettuare la scansione e il controllo di tutta la superficie distruggendo il contenuto dei dati informatici. quindi in questo caso i dati verosimilmente non sono più recuperabili. Il tempo dell'operazione però dipende dalla capacità del disco e naturalmente dalle capacità del computer che esegue la formattazione e può richiedere anche diverse ore. In una formattazione ad alto livello invece l'operazione non distrugge quindi non cancella i dati dal supporto ma in realtà viene semplicemente riscritta o se vuoi cancellata soltanto una parte del disco quella che mantiene i dati della gestione dello stesso un po' come se tu da un libro strappassi il tuo indice quindi finché i dati non verranno sovrascritte da nuove memorizzazioni potrai recuperarli parzialmente o anche totalmente per mezzo dei famosi programmi ben specifici in questo caso i dati verranno semplicemente nascosti allora completiamo questo discorso dicendo che la formattazione ad alto livello anche se apparentemente non mostra dati in realtà avviene una semplice riorganizzazione della superficie del supporto che dovrà accogliere di nuovo i dati digitali spieghiamo meglio con un esempio immagina di avere un magazzino al cui interno ci sono delle scatole di cartone che sono di varie dimensioni già pronte all'uso ma piegate nella riorganizzazione del tuo magazzino e della formattazione sceglierai innanzitutto il tipo di dimensione delle scatole da utilizzare la grandezza che nella fattispecie indica dimensione unità di allocazione quindi dei pacchetti una volta che hai prelevato queste scatole che hanno una stessa caratteristica quindi delle stesse dimensioni le aprirai e le posizionerai una accanto all'alto per poter inserire dei dati digitali in questo caso i dati che erano presenti prima della formattazione all'interno di queste scatole non verranno reimpostati quindi non verranno tolti a meno di azioni più invasive distruttive nei loro riguardi ma perché si deve eseguire una formattazione beh per trascorrere un po' di tempo scherzi a parte la formattazione può essere eseguita per diversi motivi normalmente avviene prima di una reinstallazione di un sistema operativo che può essere causato per un cambio della versione del sistema operativo un malfunzionamento un mancato avvio del sistema operativo stesso un virus o più genericamente un malware che contamina una parte del sistema operativo la creazione di una nuova partizione che poi vedremo nella prossima lezione oppure per molti altri problemi quindi nella prossima lezione conoscerai il partizionamento di un supporto e finalmente formatterai il tuo dispositivo di memorizzazione ora come sempre un forte abbraccio ciao a presto da Carlo e dalla prossima a presto